ok è passato ormai un anno da quando la sto utilizzando quindi direi che i tempi sono maturi per parlarti di lei della Leica Q3 una cam che sicuramente non si vede spesso online negli utilizzi che ne faccio io nelle escursioni in montagna e quindi credo di avere qualche informazione che potrebbe tornarti utile se magari anche tu avevi adocchiato questa cam molto costosa molto particolare e eri indeciso giustamente visto il prezzo se adottarla oppure no per una tipologia di foto come quelle che faccio io e quindi te ne parlo in questo video ho reso conto di un anno di utilizzo della Leica Q3 sono assolutamente consapevole che qui sotto nei commenti mi troverò chi mi dice Alessio hai speso tanti soldi per nulla ci sono altre cam che fanno la stessa cosa molto simili e vanno bene uguali ho trovato anche chi ha paragonato la panasonic s9 alla Leica Q3 addirittura dicendo che è una competitor che la batterà su tutti quanti gli aspetti fotografici va bene mi strappo anche gli ultimi capelli che non ho ad ogni modo come in ogni cosa ci sarà la maggior parte delle persone che parla senza mai aver avuto in mano una Leica Q3 o l'ha provata solo un paio di minuti a un Leica store poi ci sono quelli che magari l'hanno utilizzata e non ne sono rimasti soddisfatti non è scattato il feeling può succedere una macchina molto particolare come ci sono la maggioranza di persone che magari l'hanno presa e ne sono assolutamente soddisfatti io non rientro in nessuna di queste categorie perché io sono uno che prende le fotocamere come mezzi per fare fotografie tant'è che guardala da vicino guarda che belle grattugiate che ha questa Leica Q3 con un anno di vita perché io le fotocamere le utilizzo per fare foto me le porto in giro non le utilizzo come cose da mettere in vetrina o farle vedere o utilizzare con i guanti con le protezioni qua e là io le utilizzo le utilizzo sul campo e utilizzandole sul campo capita qualche volta di dargli una grattattina qua e là insomma sono mesi e io li utilizzo come tali ma perché quella volta ho scelto la Leica Q3 ho scelto la Leica Q3 per dei motivi veramente molto semplice al tempo prima di tutto cercavo una fotocamera compatta portatile robusta di qualità e questa rispecchiava tutte le caratteristiche di cui avevo bisogno ero stanco di girare con un corredo a quel tempo Canon R5 con i vari teleobiettivi obiettivi grandangolari eccetera dopo la volevo full frame con un'alta risoluzione ma perché con un'alta risoluzione perché a volte mi capita sulle cime delle montagne o comunque su dei sentieri di voler fare delle inquadrature un po più strette ma questo è un obiettivo fisso non si può intercambiare e non volevo nemmeno girare con degli obiettivi teleobiettivi da poter intercambiare e quindi poter avere una risoluzione molto ampia mi permette anche di fare dei crop piuttosto spinti certo lo sappiamo ne sono consapevole perdi la caratteristica dello schiacciamento dei piani di un teleobiettivo questo lo sappiamo ma è un compromesso che ho deciso di accettare un'altra cosa che me l'ha fatta proprio prendere in considerazione altrimenti veramente non l'avrei nemmeno scelta il fatto che hanno introdotto nella Q3 lo schermetto lcd che si apre in questo modo ed è una caratteristica che per il mio modo di fare fotografia apprezzo tantissimo se avessi avuto lo schermo fisso come nei modelli precedenti della Q non l'avrei presa in considerazione come non l'avrei presa in considerazione se avessi avuto lo schermetto che si apriva lateralmente non lo volevo proprio in questo modo come ad esempio la fuji xt5 o la fuji xe 4 che già ho che è appunto lo schermo che si apre in questo modo altra cosa non di meno il fatto che mi sono sempre trovato bene con leica ho avuto anche la leica Q la prima e la qualità di questi prodotti è veramente elevata mi è piaciuta tanto e non di meno potevo permettermela ma anche qui adesso tanti fanno storie sul prezzo quanto costava il mio corredo canon la mia canon eos r5 con anche un buon obiettivo grandangolare di qualità beh come prezzo non sembrava tanto distante da questo certo un altro sistema obiettivi intercambiabili tutto quello che ci vai dietro ma non avevi un prodotto così compatto e portatile ho scelto la leica q3 quali erano le mie aspettative quando ho deciso di adottare una fotocamera di questo tipo e soprattutto a distanza di un anno di utilizzo queste aspettative sono state soddisfatte oppure mi sono reso conto che ci sono dei compromessi che mi hanno fatto un po ripensare della scelta fatta ora a distanza di un anno allora partiamo da quali erano le mie aspettative e lì avevo l'idea abbastanza chiare un anno fa perché nelle mie ultime esperienze fotografiche escursioni che andavo a fare mi rendevo conto che non riuscivo a vivere bene l'esperienza avevo sempre la testa sull'attrezzatura non mi godevo i miei giri tant'è che arrivavo in certe situazioni vedevo un paesaggio bellissimo mi chiedevo magari se era meglio utilizzare il teleobiettivo che avevo nello zaino piuttosto che il grandangolare che avevo installato sull'obiettivo della cam quindi magari mi fermavo andavo a cambiare l'obiettivo poi viceversa avevo il teleobiettivo mi chiedevo se era meglio il grandangolare in un contesto magari a 100 metri più avanti il tutto diventava frustrante dal punto di vista mentale ma anche faticoso dal punto di vista fisico perché significava fermarsi ogni tot minuti di camminata per cambiare l'attrezzatura insomma una cosa che mi ha fatto pensare molto a come stavo vivendo l'esperienza e quindi la mia idea era ok con una fotocamera compatta con obiettivo fisso non intercambiabile tutto di estrema qualità ovviamente avrei potuto vivere meglio questa esperienza di camminata e discussioni fotografiche la risposta è stata sì infatti a distanza di un anno sono tuttora molto soddisfatto della scelta in generale fatta della reiko q3 di questa tipologia di fotocamera quando io faccio le mie escursioni fotografiche riesco a godermi la camminata riesco a godermi il territorio qui attorno riesco a vedere le cose che mi piacciono e so anche che ho un estrema qualità grazie a quest'ottica fenomenale al sensore grandioso una combo veramente studiata alla grande che mi dà modo di avere anche dei margini con questa risoluzione molto elevata che mi permette di fare dei crop delle chiusure di inquadratura molto particolari mantenendo una qualità fenomenale anche dal punto di vista della luce e tutto quello che ci gira attorno insomma sì a distanza di un anno sono ancora estremamente soddisfatto della scelta fatta non significa che non trovi comodi magari dei teleobiettivi dei grandangolari con delle fotocamere con un'ottica intercambiabile no questo non lo nego infatti non ho venduto i miei obiettivi della Canon ho venduto solo la cam tuttavia attualmente sono estremamente soddisfatto della scelta fatta a distanza di un anno per me è veramente molto semplice parlarti dei suoi pregi e difetti e qui devo fare una premessa secondo me farsi un'idea su questa cam in un laica store utilizzandola una mezz'ora un'ora che te la danno in prova in un ambiente prettamente urbano non rende giustizia in quei contesti secondo me vai solo a confermare eventuali pregiudizi che hai sulla cam o ad esaltare eventuali pregi idee positive che ti hai fatto su questa cam non sono i contesti ideali sarebbe da provarla utilizzarla sul campo in ambiti differenti in contesti differenti sotto la pioggia in condizioni di luce intensa di luce scarsa lì riesci a capire come rende questa cam e allora parliamo dei pregi che ho riscontrato io se ti vuoi fidare di quello che ti dico io secondo me sono davanti agli occhi di tutti ed è quest'ottica abbinata a questo sensore una combo veramente strepitosa progettata da laica che ti dà una qualità assurda ma questo lo sappiamo il controluce è strepitoso ha uno sfocato bellissimo grazie al diaframma a petali e poi nei miei paesaggi io chiudo f5.6 e ho già una definizione assurda tanti meno chiesto ma perché non chiudi ad f8 visto che la resa delle ottiche si sa è migliore a f8 perché per me non ha senso a f5.6 ho una profondità di campo sufficiente per i paesaggi che vado a fare e hai una definizione esagerata buonissima per me non ha senso chiudere f8 preferisco tenere un po più aperto il diaframma e avere un tempo di scatto più veloce perché scatto a mano libera ottenere gli iso un po più bassi insomma è una caratteristica che mi piace di questa camera proprio un abbinamento strepitoso tra l'altro questo magari lo sai se sei interessato alla cam se sei appassionato di macro questo obiettivo ha già la funzione macro integrata quindi vedi cambia anche proprio la scala per la messa a fuoco che si può utilizzare in manuale e vai a fare le macro con questo obiettivo con questa combo strepitosa altre cose positive è il grip tante persone hanno criticato appunto l'aspetto del grip di questa camera in realtà per quanto sia semplice molto valido io ho semplicemente aggiunto come accessorio qui il supporto per il pollice perché la utilizzo nelle mie camminate con una mano sola e soprattutto non utilizzo la tracolla quindi preferisco avere un grip in più di sicurezza ma anche senza questo comunque era facile e comoda da tenere in mano e questi sono i suoi pregi e proprio la sua caratteristica il pacchetto unico lo schermo che si ribatte in questo modo io lo trovo comodo magari in tutto caso non lo è il merino è veramente di altissima qualità in certi contesti lo utilizzo se non mi basta lo schermo rcd insomma mi piace moltissimo se andiamo a vedere i difetti ce n'è uno forse di tecnico posso dire che sono gli attacchi qui vediamo se mette a fuoco gli attacchi qui nella tracolle bruttissimi li trovo veramente scomodi non mi piacciono preferisco gli standard ad esempio che troviamo sulla canon eccetera però vabbè è così e ce lo teniamo ma dal punto di vista tecnico appunto perché ha una qualità estremamente elevata è stata progettata si può dire in ogni minimo particolare non è che ne trovi tanti per chi cerca questa tipologia di prodotto ma forse il difetto e qui lo dico col cuore sta proprio nella tipologia di macchina like a q3 che abbiamo davanti e relativa al suo costo per capirci il suo difetto più grande è il fatto che tanti se la prendono e hanno paura di rovinarla guarda io come l'ho utilizzata capisci bene che utilizzandola come un oggetto si finisce per grattarla rovinarla e me è successo questo però io considero le fotocamere degli oggetti sono consapevole che invece per qualcuno un oggetto così costoso beh non è pronto magari psicologicamente andare a utilizzarla sul campo sapendo di poterla graffiare rovinare e quindi magari pensano di io l'ho pagata tanti soldi se la rovino perde di valore se devo rivenderla ci perdo tantissimo ecco non fa per te questo è il suo grande difetto forse costa così tanto che devi essere preparato mentalmente per utilizzarla in un contesto normale senza dover metterla lì su una vetrina o tenerla sempre nella sua custodia per paura di rovinarla e questo forse è il suo grande difetto il confronto col passato non è semplice nel senso sarei falso a dirti che con questa cam vai a rimpiazzare un sistema tradizionale mirrorless con lenti intercambiabili come il mio precedente Canon OSR 5 con 70-200 e 14-35 uno zoom grandangolare e un zoom teleobiettivo sarebbe falso perché sono due cose diverse hanno entrambe degli aspetti molto positivi dal punto di vista della fotografia anche degli aspetti negativi secondo me devi concentrarti su quello che ti ho detto all'inizio valutare il tuo modo di vivere la fotografia in questo momento lo sappiamo le persone col tempo cambiano possono cambiare anche come vivono i propri hobby nel mio caso è successo proprio questo è cambiato anche il mio modo di vivere la fotografia e quindi questo strumento è più adatto attualmente a quello che faccio io non è detto che sia adatto al tuo contesto certo è che se anche tu stai riscontrando questa cosa che non riesci più a vivere bene la fotografia con il tuo sistema tradizionale con gli obiettivi da intercambiare eccetera girare con lo zaino con gli obiettivi eccetera insomma magari potresti valutare magari non è una Leica Q3 magari sì magari no magari ti accontenti di un prodotto differente una Fuji serie X100V quella lì X100 insomma una XE4 anche questa con obiettivi intercambiabili ma non pensata per utilizzare te gli obiettivi devi ragionarci sopra è lì secondo me la chiave per capire se questo è uno strumento che può fare al caso tuo se sei arrivato o arrivata fino a questo punto del video probabilmente sei seriamente interessato e interessata alla Leica Q3 e ti stai chiedendo se fare o no questa spesa per acquistarla quindi voglio darti i miei ultimi due centesimi di consiglio secondo me i più importanti tra l'altro quelli che ti faranno realmente capire se spendere quei soldi per la Leica Q3 ha senso oppure no e la risposta a questa domanda ce l'hai in realtà dentro di te devi guardarti fra 4 5 anni che tipo di fotografo sei sei un fotografo ancora estremamente appassionato dell'oggetto della tecnologia della cam che permette di fare video strepitosi ma anche fotografie con 3000 funzionalità all'interno magari che si collega con delle app collegata con un aggiornamento di firmware strepitosi o sei più una persona che sarà concentrata più sulla fotografia sul godersi momento la scena i paesaggi che ha davanti i contesti che si trova davanti e vuole a fianco a sé un prodotto che gli dia la garanzia di darti la qualità migliore possibile in quel contesto per portare a casa l'immagine se rientri in quest'ultima visione se ti vedi così come fotografo o fotografa fra 3 4 anni allora si puoi seriamente fare un pensiero alla Leica Q3 perché realmente è un prodotto di questo tipo è una fotocamera compatta portatile di estrema qualità per tutto quello che riesce a fare e quindi è lì è un tuo compagno di viaggio per portare a casa le immagini che hai davanti e quindi farti vivere alla grande il momento che stai affrontando la situazione che stai vivendo questo è lo scopo di una Leica Q3 secondo me e siamo arrivati alla fine di questo video ma aspetta prima di chiudere vai qui sotto lasciami un tuo feedback nei commenti fammi sapere cosa ne pensi se ti è piaciuto questo video se ti ho dato che spunto sul quale riflettere se hai trovato degli spunti interessanti sui quali ragionare ma per favore te lo chiedo veramente col cuore non facciamo dei commenti superficiali basati esclusivamente sul prezzo perché lo so tante volte si cade sempre lì si ragiona sempre sul prezzo e non su tutto quello che può voler dire un prodotto di un certo tipo per questo video è tutto se ti è piaciuto metti un like noi ci vediamo al prossimo episodio magari in un'uscita fotografica dove andiamo a spremere ulteriormente questa cam andiamo a dargli qualche altra cicatrice sul campo ciao galessi ciao